Siringhe usate, fazzoletti sporchi di sangue, ma anche tanta altra sporcizia, cartacce e pacchetti di sigarette abbandonati in un piccolo angolo verde. In via Adige ad Arezzo, in zona Saione, il degrado arriva fin sotto le finestre di casa. Ci troviamo a Il Campino, come lo chiamano i residenti, e siamo di fronte ad una triste istantanea di degrado, a testimonianza del passaggio di sore di tossicodipendenza e abuso di sostanze stupefacenti, proprio accanto alle abitazioni in un angolo alle porte del centro aretino. Il Campino è una piccola area verde all'ombra di due palazzine che costeggia la strada. Ci si accede facilmente in quanto non ha né recensioni né cancelli. Si entra infatti senza alcuna difficoltà direttamente dal marciapiede. Un angolo lontano da occhi indiscreti, scelto presumibilmente la notte, come testimoniano le numerose siringhe da alcuni tossicodipendenti per innettarsi le dosi di stupefacenti. Si ha paura, io per tipo, io esco con lei, il mio orario è alle 4 mesi, dopo non esco più, perché ho paura. È una zona che è un po' guardata, un po' male, e comunque la sera non vengono manco i carabinieri. Io abito al primo piano, ma della verità io anche ho paura, perché comunque c'è una zona balorda qui. Non ci troviamo lontano da Via del Trionfo, dove in un porticato avevamo documentato la presenza di siringhe, fazzoletti sporchi e addirittura tracce di sangue sul pavimento. Chiari segnali di degrado e soprattutto di consumo di stupefacenti. Ma non solo Via Adige e Via del Trionfo, sono infatti molti altri angoli del quartiere di Saione che versano in uno stato di degrado, come spesso abbiamo raccontato.